Prende il nome dal locale notturno di Martinsicuro, all'esterno del quale si è consumata una violenta aggressione la notte del 2 agosto scorso. L'operazione Diamante è eseguita all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Alba Veriatica tra Martinsicuro e San Benedetto del Tronto. Sei in tutto le persone arrestate tra i 21 e 48 anni e che a vario titolo dovranno rispondere di tentato omicidio. E' pesantissima infatti l'accusa formulata dal PM della procura di terra Monerica Medori, che ha portato all'ottenimento da parte del GIP di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere. Eseguite questa mattina con l'ausilio dei reparti operativi dei carabinieri, mentre un elicottero del nucleo di Pescara sorvolava l'area a cavallo tra Abruzzo e Marche. Tutto nasce da quanto avvenuto intorno alle 4 del 2 agosto scorso, quando una pattuglia del normo della compagnia di Alba Veriatica si è dovuta portare all'esterno del piazzale antistante Nightclub Truentino, su richiesta del titolare. Un quarantene di Martinsicuro, dopo un litigio scoppiato per futili motivi, era stato prima accerchiato e poi aggredito brutalmente picchiato con calci e pugni da sei uomini. Non paghi, i sei avevano colpito il quarantenne anche con delle sedie trovate fuori dal locale. Poco prima dell'arrivo della pattuglia si erano dati tutti alla fuga. L'aggredito ha avuto una prognosi di 90 giorni e gli approfondimenti clinici hanno evidenziato come le lesioni riportate gli avrebbero potuto procurare la morte. Preziose ai fini delle indagini sono state le testimonianze oculari e le analisi dei tabulati telefonici e dei filmati del sistema di videosorveglianza. Dei sei arrestati, tutti pregiudicati e già noti alle forze dell'ordine, cinque sono stati arrestati a Porto d'Ascoli e sono stati tradotti nel carcere di Ascoli Piceno e uno ad Alba Veriatica, motivo per cui si trova ora nel carcere di Teramo. Prezioso l'impiego stamane del cane antidroga e anti-esplosivo che ha permesso ai carabinieri di scandagliare il terreno limitrofa all'abitazione dell'arrestato di 48 anni affiliato a un clan calabrese. E hanno ritrovato sotterrati un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola a brasa, due pistole delle quali una con matricola a brasa e un involucro contenente 10 grammi di cocaina.